Ciao ragazzi e ragazze, se sentite dei rumori in sottofondo è perché questo video lo sto registrando mentre c'è Vergola che sta giocando con la sua sorellina che è la cagnetta del compagno di mia mamma. Allora, video di oggi, uncut, uncut numero 101, un uncut che onestamente avrei preferito evitare ma ogni tanto gli uncut anche fatti così sono utili. Ho condiviso nella serie di The Startup of Me che tra l'altro mi sta facendo perdere degli iscritti al canale perché probabilmente essendo in inglese la gente si sta stufando, ma pazienza. Ve ne ho parlato del momento complesso che stavo vivendo, di come queste due, tre giornate tra Pasqua e questi giorni siano state particolarmente difficili. Oggi abbiamo ricevuto un no ad un investimento da un fondo, stanno bevendo l'acqua, e vi devo dire la verità, non è stato tanto il no a una cosa che credevo, sto parlando di Oscar ovviamente, ma è stato il modo con cui è arrivato, un modo che mi ha delusa, che mi ha dispiaciuto, mi è dispiaciuto veramente tantissimo e che credo, spero che domani già mi sarà passata, domani sono tutto il giorno a Roma per lavoro con GV. Quindi in realtà registro questo uncut nel disagio del momento, ma di un momento che mi sto portando avanti da tre giorni e che non è stato per niente facile, se volete in qualche modo costruttivo. Ieri l'Inter ha vinto il derby, quindi sono molto contenta di questo, ma per il resto sono veramente delle giornate in cui mi rendo conto che sto producendo poco e questa cosa non mi sta piacendo. Però credo che questo accade, questo possa accadere, ci sono delle occasioni in cui siamo meno produttivi, meno capaci di dare risposte, forse anche meno lucidi, cioè fa parte del percorso, solo che bisogna anche avere il coraggio di ammetterlo e di mettersi davanti alla telecamera a raccontare questa cosa qua. Io sto veramente passando un periodo complesso perché credevo che questo paio di settimane sarebbero state il momento delle risposte, in realtà tutto si sta tirando ancora per le lunghe e razionalmente non è una perdita di tempo così sostanziale, però è chiaro che quando non dipende più da te, come tutte le cose nella vita, le cose diventano sempre più difficili. Credo che sia normale e legittimo che ognuno di noi abbia questi momenti. Mi ritengo molto fortunata per non avere sintomi e questo sicuramente sta facendo del bene, nel senso che non sto avendo particolarmente i miei soliti sintomi di ossidie e pensieri intrusivi, anzi adesso devo andare a fare una storia sui pensieri intrusivi, sono passanada. E credo che questo sia già un ottimo risultato. Non posso allenarmi in maniera come vorrei perché ho male a un polpaccio e quindi questo purtroppo ci tocca. E in realtà sono consapevole che ci sono tante cose belle davanti, ma è un momento semplicemente così. Credo sia giusto riconoscerlo, anche perché anche martedì non... No, martedì ho fatto un contenuto, però lunedì che era Pasquetta no, nonostante fossi a casa. E questo insomma, credo di starmi un po' vessando con questa sensazione. Però è anche giusto che se io ho fatto un pledge, no? Ho fatto un... come si dice? Aiuto. Ho fatto un... promessa un po' nei vostri confronti di essere onesta e sincera, sono cose che vi devo dire. Spero... Allora, credevo che non sarebbe arrivato di nuovo un momento così dopo che ce l'ho avuto qualche mese fa, un mese e mezzo fa. È tornato, probabilmente verrà sostituito dall'app, spero. Basta! Dall'app di qualcos'altro. E niente, volevo condividere con voi questo passaggio di vita, se siete arrivati a 5 minuti e 20, complimenti. Da domani, già so di cosa parlerò nel video di domani, quindi da domani si torna operative, tra virgolette. E vi ringrazio per l'enorme fiducia che rimettete sempre in me, nonostante ho cominciato a fare i video in inglese, a qualcuno di voi dà fastidio. Però c'è un senso. Vedete che ci sarà. Comunque, ci sentiamo domani. Stop whining. E non siate duri con voi stessi. Grazie. Grazie. Grazie.